Un protocollo di intesa per lo scambio di competenze e servizi tra Confindustria Bari e Bat e Asso Lombarda Confindustria Milano, Monza Brianza e Lodi è stato sottoscritto ieri a Bari dei presidenti di Bari Sergio Fontana e Milano Carlo Bonomi nell'ambito di un incontro sull'autonomia differenziata al quale ha partecipato il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia. L'accordo di oggi è molto importante, ha detto Bonomi, perché dimostra come all'interno delle differenze si può e si deve lavorare insieme perché o tutta l'Italia cresce o non funziona. Il sud fa parte del paese e se non cresce non andiamo da nessuna parte, Milano da sola non ce la può fare. L'autonomia regionale ha un senso, ha aggiunto poi Bonomi, se si definiscono le regole del gioco deve essere cioè al servizio della valorizzazione delle singole aree, non di un'area a sfavore delle altre. Con questo accordo, ha detto Fontana, vogliamo dimostrare che nord e sud non hanno interessi contrapposti ma comuni. L'autonomia differenziata potrebbe favorire queste partnership e rappresentare un vantaggio per le nostre aziende se saprà diventare sinonimo di semplificazione, efficienza e responsabilità della politica nei confronti dei cittadini. Per Boccia invece è un primo passo per trasmettere alla conferenza delle regioni la bozza della legge quadro sull'autonomia. Ho fatto sintesi di tutto quello che ho raccolto in questi due mesi, ha spiegato il ministro Boccia. La legge garantisce che tutti possono concorrere alla crescita del paese. Inizia quindi oggi un grande gioco di squadra e spero senza distinzione di colori politici. La settimana prossima, ha spiegato Boccia, inizierà in conferenza Stato-Regioni un bel confronto. Ora tocca agli altri dirmi se c'è qualcosa che non va, cosa integrare, modificare e migliorare. Vorrei, antro fine novembre, presentare la legge quadro in Parlamento. La bozza, composta da due articoli, prevede nella prima parte la determinazione dei livelli essenziali nelle prestazioni che siano uniformi su tutto il territorio nazionale, anche attraverso la perequazione infrastrutturale e nella seconda le modalità di definizione degli stessi.